Votare no è l'unico modo per cambiare, cambiare l'Italia e cambiare l'Europa. Basta guardare chi ci chiede di votare sì, le cancellerie europee, la signora Merkel in prima fila, la BCE, i fanatici dell'austerity, le grandi banche globali, la finanza che hanno rovinato l'economia mondiale, i nostri governanti che hanno cementificato e reso fragile questo paese. L'unico modo per cambiare è dare uno scossone e questo si dà facendo capire a loro signori che non siamo ai loro ordini. Grazie per la visione!